La qualità del turismo e l'attrattività di un territorio passano anche e soprattutto dai servizi offerti. Uno dei più importanti è sicuramente quello legato al settore dei trasporti. Se l'aeroporto di Ponte Cagnano è il futuro e le fermate del treno Frecciarossa nel Cilento, il passato prossimo, la mancanza di collegamenti immediati tra la stazione di Agropoli Castellabate e il comune di Castellabate è purtroppo il presente. In tutti questi anni si è persa un'occasione unica, offrire un servizio essenziale ed esclusivo ai tanti turisti diretti nel Cilento. Per queste persone arrivare alla stazione di Agropoli Castellabate non è il raggiungimento della meta ma purtroppo l'inizio di un nuovo viaggio verso la destinazione delle loro vacanze e paradossalmente impiegano più tempo e fatica per questo tragitto. In questi anni, in occasione della discussione del bilancio del comune di Castellabate, abbiamo sempre proposto l'attivazione di un servizio navetta comunale che potesse collegare in maniera stabile, diretta e immediata la stazione di Agropoli Castellabate con il comune di Castellabate. Queste le dichiarazioni del consigliere di minoranza Luigi Maurano, casomai pensando di iniziare con tre corse giornaliere in concomitanza con gli orari di punta degli arrivi. Tale servizio, oltre a migliorare l'esperienza di viaggio dei turisti e l'accessibilità dei nostri luoghi, permetterebbe anche di incrementare il lavoro per le aziende di trasporto, con conseguenze positive sull'occupazione per i nostri concittadini. Questa proposta è stata sempre bocciata dagli amministratori di maggioranza del comune di Castellabate, continua Maurano, e anche da chi ora con una mossa del gambero cerca di riciclarsi. Finalmente, dalla prossima primavera, climatica e politica, se voi vorrete possiamo iniziare a programmare, organizzare e offrire servizi essenziali per il turismo, conclude Luigi Maurano.